Roma ha indossato i vestiti delle feste natalizie e la gente ha accompagnato con gioia ed emozione il primo omaggio di Papa Francesco alla Statua della Vergine in Piazza di Spagna, proprio nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità della sua Immacolata Concezione. Il percorso dal Vaticano al Centro Storico è stato scandito da applausi e gesti di affetto, un abbraccio al quale il Pontefice non si è sottratto. Dopo una breve sosta davanti alla Chiesa della Santissima Trinità per l'omaggio dell'Associazione Commerciante di Via Condotti, Papa Francesco è giunto in Piazza di Spagna ai piedi di una suggestiva scalinata di Trinità dei Monti, gremita di gente nonostante il freddo. Aiutaci a rimanere in accolto attento dalla voce del Signore. Il grido dei poveri non ci lascia mai indifferenti. L'afferenza del mailati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti. La solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano. Ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. Prima di risalire in auto al termine del tradizionale atto di venerazione all'Immacolata e dell'omaggio floreale, Papa Francesco si è lungamente trattenuto con gli ammalati accompagnati dall'Unitalsi, giunti anche dalle zone alluvionate della Sardegna, senza risparmiare sorrisi, abbracci, carezze, parole di vicinanza e di conforto. Ultima tappa di questo pomeriggio intenso, la visita alla Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, la sesta dall'inizio del pontificato per una preghiera dinanzi all'immagine della Salus Popoli Romana.